il risultato silenzio nome matteo francesco con la nata sovranone se l'avete valentos 18 18 nuova di gioco portiere esterno quando la parte del palo verso della squadra risulta squadra a quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? a quattro anni 5 il ricordo più bello della tua carriera? allo scorso vittorio del campionato primo gol di eccellenza contro? il ricordo più brutto? adesso finale persa con gli allievi regionali il suo miglior pregio? la velocità? è molto buono il suo peggior difetto? capelli bianchi fermoloso chi è il più bello della squadra? giacomo basso chi è il più simpatico? torta chi è il più fermoloso? albertazzi chi è il più alla moda? giulio basso chi è il più bravo a giocare a calcio? massimiliano rossi rotta il tuo sogno nel cassetto? salire di categoria e salvarsi quest'anno basso meglio un gol o una cena romantica? preferisco la cena romantica che prenda un gol preferisco il gol meglio vincere il campionato o conquistare la donna più bella del mondo? vincere il campionato concordo il tuo giocatore ideale è la playstation? buffon rossi come spieghi il fuori gioco di una donna? voglio lo spieghi ci rinunci in partenza una cosa dell'altro che preferisci? la bellezza la altezza una cosa dell'altro che non sopporti? passo molto permaloso molto permaloso come ti carichi prima di una partita? TECCA! passa il tuo modulo di gioco preferito? è un modulo preferito 3 4 3 saluta francesco ciao vallà saluta Matteo saluta